Siamo qui con coach Guglielmo Rozzani del Blue Basket Treviglio, per Treviglio lei l'anno scorso non c'era, è la seconda trasverda terrificante in terra romagnola, partito obiettivamente che ha avuto ben poca storia. Pochissima, pochissima storia, sì, 80 punti di scarto in due partite sono veramente tanti, lei risponde di questa, via, 20 punti in meno, non è grande consolazione però, noi non abbiamo mai fatto grandi previsioni, grandi previsioni di forza, non abbiamo mai detto di essere una squadra che ha ambizioni, grandi ambizioni, siamo una squadra che deve provare a giocare con umiltà, sudando e facendo fatica, quando invece non ci proviamo nemmeno, incappiamo in queste figuracce, sicuramente non siamo una squadra di livello di Forlì e nemmeno delle altre tre o quattro più forti del campionato, fino adesso abbiamo avuto un buon calendario, abbiamo avuto un atteggiamento sicuramente migliore di quello di oggi, sono un altro buono, oggi veramente non ci viene nemmeno provato, siamo stati in campo con presunzione, con paura, non so, con mille nubi, mille problemi e così giustamente ci vanno a pagare tutte le nostre deficienze, tutte le nostre mancanze, anche se ci vanno a riportare una piaga. È chiaro che con un record di 6-1 ci aspettavamo forse qualcosina di più e questo già lo consentirà il coach, la sensazione forse era anche che Forlì sia nella fase in cui sta avvitando i bulloni per fare una stagione di vertice, voi forse siete venuti rilassati se si vinceva bene, se si perdeva pazienza, può questo essere stato un po' aver tradito suoi? Sì, probabilmente questa è una diagnosi esatta, che Forlì sia in che netta crescita lo credo anch'io.